Devo ringraziare gli amici di Facebook perché hanno risposto proprio a questa domanda le settimane scorse e allora la media è stata, le donne sono prevalentemente negative rispetto a questa posizione gli uomini prevalentemente invece la usano come la parola terribile devo fare un percorso, devo ritrovare me stesso Grazie